Bentornati su MyFootballGersey! Oggi vediamo la tuta, una delle tute di allenamento del Paris Saint Germain per la stagione 22-23. Questa tuta di allenamento del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 è prevalentemente nera. La maglia presenta una stampa all over grigia con forme geometriche astratte. I pantaloni sono completamente neri. Logo Jordan e sponsor sono di colore bianco. Una versione monocromatica dello stema del club è posta sia sulla maglia che sui pantaloni. Una tuta elegante, calda e confortevole che non vi farà passare inosservati. Wow! La tuta è molto bella, peraltro del giocatore campione del mondo e del vice campione del mondo. Quindi voglio dire, una tuta che bisogna sicuramente avere. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Molto bello il materiale, molto bella questa colorazione rifinita benissimo in tutti i particolari. Il costo lo vedete qui sopra. Che voglio dire, per questa tuta è bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie per la visione!